Thomas Bainotto, attaccante della città di Sernia, prosegue il vostro cammino incessante verso quello che è l'obiettivo finale? Sì, penso che abbiamo fatto una grande mostra di carattere e niente, dobbiamo continuare a lavorare così con questa cattiveria, con questa umiltà, faremo di tutto per poter vincere il campionato sicuramente. Il più importante è la squadra, tutti i gol arrivano grazie alla squadra, al gioco della squadra, quindi in parte di loro anche. Sì, ora due settimane di sosta, non so se vi può servire per recuperare un po' di energia oppure vi spezza il ritmo, tu come la vedi? No, dobbiamo continuare a lavorare con lo stesso ritmo, va bene anche un po' di riposo, soprattutto per le gambe e per la testa, ma sempre con questa cattiveria. Anche perché dopo la sosta c'è il Campomarino, squadra che all'andata vi aveva messo in grossa difficoltà e subito dopo lo scontro diretto con l'Aurora Alto Casertano. Un inizio dopo la sosta che crediamo possa dirla lunga su quello che poi sarà il risultato finale. Sì, come già abbiamo visto in questo campionato non si può sottovalutare nessuna partita, quindi sempre con la stessa cattiveria e con la testa ogni partita. Grazie. Grazie.